Allora senti, per questa nostra prima puntata, per questo nostro ritorno a Bruno Mattina abbiamo deciso di fare anche una bella sorpresa ai nostri ascoltatori perché se la meritano anche loro, che sono i casino che ci ascoltano tutti i giorni abbiamo il piacere di presentarvi, cari amici, Max Pezzali Buongiorno, buongiorno a tutti Ciao Max, ciao Allora, raccontaci un po' come stai vivendo tu questi giorni a casa Beh, credo un po' come tutti Nel senso lockdown completo, quindi chiuso a casa vivo con mia moglie che fa praticamente in questo periodo smart working quindi dobbiamo dividerci gli spazi anche dal punto di vista così della logistica e della gestione del tempo, esatto Gli spazi e la banda Esatto, però siamo molto molto... E' un momento in cui si sa cercare di fare di necessità virtù sostanzialmente Cioè utilizzare questo tempo forzato In questo momento bisogna stare forzatamente a casa per cercare magari di fare le cose che sono dimenticate magari che ci siamo lasciati dietro nei mesi scorsi insomma, dal mettere in ordine alcune zone della casa che era stato diventato specie armadi, scarpiere, quelle cose lì Esatto, per esempio la cosa che hai approfittato di fare in questi giorni di permanenza forzata a casa Per esempio la cosa che hai detto Adesso faccio questa Ma diciamo che ormai avendo esaurito una serie di opzioni quelle più ovvie sono andate addirittura nella direzione di fare i dolci Ho riappurato I dolci? Incredibile Sì, perché io ho bisogno di esaurire solo per... Dovete sapere che... Avete presente i bimbi, no? Sì, sì, sì Chi non conosce il bimbi, anche chi non lo ha mai usato come me, per esempio Esatto, io ce l'avevo dagli anni 90 Cioè tipo, l'avevo comprato ai tempi che ne so Dici, mi fa su dove spesso, fai conto Sì E non l'hai mai usato? Mai usato Incredibilmente in questi giorni l'ho provato ad accedere Ho persino, ho fatto delle torte E oggi ne farò un'altra Quindi c'è questo momento di lanza partizzeria Senti, ma la reazione della tua famiglia dopo la creazione della torta qual è stata? Di entusiasmo? Oh, della serie, vabbè dai, riprovaci No, all'inizio volevano chiamare l'esorcista perché pensavano che fossi posseduto da qualche forza maligna In realtà poi, viste i risultati, sono contenti quindi, insomma, proseguirò la mia carriera di pasticciera amatoriale Io vorrei sapere che torta farà oggi Max Pezzali Torta alle noci, oggi torta alle noci Quindi preparo l'impasto una cosa molto molto semplice però dopo i risultati di settimana scorsa che sono sparato ben due torte al cioccolato molto buone, ma adesso sono molto felici Senti Max, ma in tutto questo apparente relax la tua mente ogni tanto va al 10, all'11 luglio o hai messo da parte per il momento? No, 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 beh, io al momento chiaramente comunque ci sto pensando sto pensando alla scaletta bene, a tutte le cose sto costruendo, sto anche lavorando comunque a canzoni dell'album nuovo quindi in ogni caso l'idea del lavoro continua chiaramente non è più solo nelle nostre mani non è nelle nostre possibilità prevedere che cosa succederà Stiamo parlando di San Siro, canta Max per chi magari se fosse perso la situazione sono i due concerti che Max farà a San Siro il 10 e l'11 luglio prossimi 10 e l'11 luglio, chiaramente però sappiamo che qualsiasi cosa succeda sparanno, non sparà magari vedremo se sparanno in sei giorni però dipende tutto, chiaramente è fuori dalla nostra dalle nostre possibilità Certo, certo Passo alla volta Speriamo davvero, vediamo che cambia scenario ogni 24 ore insomma l'obiettivo davvero di tornare alla normalità Esatto, qui ogni giorno alle 18 cambia tutto C'è il bollettino per i naviganti Cambia tutto, esatto Grazie a Max Pezzali per essere stato con noi è stato bellissimo sentirti e speriamo anche di poterle assaggiare queste torte Grazie a voi Ecco, grazie Assolutamente speriamo di vederci di persona Esatto che sarebbe una bella cosa A mangiare bene insieme Qualcuno dice che quando prepari le torte sei imbrimatto Sarà vero? Esatto, può darsi Questo veramente mi fa sembrare un fatto perché nessuno l'avrebbe mai ipotizzato fino a dieci giorni fa Ciao Max, a presto Ciao a tutti Ciao a presto Ciao a presto